Nuova udienza nell'aula bunker di Firenze per il processo sulla morte di Veronica Locatelli caduta dai bastioni del forte Belvedere nel 2008. Assente l'allora sindaco Domenici imputato nel procedimento. Sentiti due testimoni. Jacopo Cecconi. La commissione provinciale di vigilanza della prefettura si era riunita 14 giorni prima della morte di Veronica Locatelli ed aveva dato un parere positivo ai piani di sicurezza presentati dal comune di Firenze. È quanto è emerso dalle testimonianze in aula della presidente di quella commissione il vice prefetto Anna Maria Santoro e dell'ingegnere dei vigili del fuoco Alessandro Vieri. Entrambi sono stati chiamati a deporre come testimoni dalle difese dei sei imputati fra cui c'è anche l'allora sindaco Leonardo Domenici. Il vice prefetto ha anche affermato di non essere stata a conoscenza quel primo luglio 2008 che meno di due anni prima nello stesso luogo era morto cadendo nel vuoto dai bastioni un ragazzo romano di 20 anni Luca Raso. Veronica Locatelli ricercatrice di 37 anni precipitò da 10 metri di altezza in uno strapiombo che secondo l'accusa era buio e mal segnalato. Il processo proseguirà il 21 gennaio sono già fissate altre sei udienze. Lo scorso anno si era già arrivati alla richiesta di condanna da parte del PM. Quattro anni per omicidio colposo per Domenici e altri due imputati. tre anni per un quarto ma il giudice aveva chiesto ulteriori approfondimenti. La sentenza è prevista a primavera.